Eccoci qua, bentornati, nuova settimana di trading, nuova settimana di mercati Buona giornata dei lavoratori a tutti, i mercati americani sono aperti quindi ci concentreremo comunque su quello che è il nostro lavoro quotidiano In questa settimana sarò senza i miei abili e validi collaboratori Jonathan e Natalia che chiaramente sono molto impegnati ormai a tre settimane, meno di tre settimane saremo a Milano alla nostra trend positioning growth conference Sarà un evento veramente epico per la qualità e la quantità di informazioni e contenuti pratici che daremo a chi sarà lì Quindi partiamo subito con questa settimana di mercati Allora, settimana chiave per quanto mi riguarda, a livello grafico sono successe delle cose veramente molto belle, molto interessanti Abbiamo avuto il Nasdaq che ha chiuso con un più 1,28%, ancora siamo sotto i 12.300 punti ma ci siamo molto vicini Contrazione della volatilità nelle ultime 4 settimane veramente fantastica, qualcosa che nei mercati non si vede così di frequente Lo potete vedere in questo grafico in alto a sinistra che state osservando e che stai guardando Quindi settimana molto importante a livello grafico, abbiamo avuto questo rimbalzo sui 12.000, quindi ci sono dei livelli di supporto E quindi i compratori che stanno supportando i 12.000 nel Nasdaq in maniera veramente forte Andiamo a vedere l'SMP che ha chiuso con un 0,87%, settimana molto importante per quanto riguarda l'SMP In particolare perché è settimana che coincide in realtà con la chiusura settimanale E se andiamo a vedere quello che è successo sul grafico mensile, più che con la chiusura settimanale La chiusura settimanale che coincide stavolta anche con il grafico mensile, con la chiusura mensile Vediamo che per la prima volta da 12 mesi abbiamo una chiusura sopra le chiusure dei 12 mesi precedenti Abbiamo una chiusura a 4169 punti, chiusura che non era mai arrivata sopra questi livelli da veramente tanto tempo Oltre un anno, un anno dove ci siamo ritrovati ingabbiati e incastonati in questi livelli Dove gli ultimi 4, 5, 6 mesi per quanto mi riguarda sono stati assolutamente i più difficili In termini di gestione della mia carriera probabilmente Come diciamo sempre in realtà i crolli di mercato per noi sono molto facili Perché stiamo fuori dal mercato o shortiamo il mercato Le fasi laterali invece sono quelle più difficili dove senza un adeguato position management, position size, risk management E senza una strategia di cui ci fidiamo ciecamente il rischio di ritrovarsi a fare overtrading Nella speranza che il mercato faccia quello che noi ci aspettiamo è veramente molto alta Il motivo è semplice, ovvero che i mercati in quelle condizioni danno delle opportunità di breakout Sembra che il mercato ci stia scappando di mano Che abbia voglia di salire per poi tornare indietro un giorno, due giorni, tre giorni dopo E questo chiaramente crea tanta frustrazione nei mercati Crea la percezione anche di perdere il controllo della situazione Quindi avere una strategia che ci permette, grazie alle regole, di rimanere fuori da queste condizioni Il maggior tempo possibile E quando entriamo al mercato, e questo è il modo in cui l'abbiamo gestita Di entrare con un position size adeguato In modo da partecipare alla risalita se dovesse esserci Ma non farsi male nel momento in cui il mercato Un giorno, due giorni, tre giorni dopo va a ritracciare E la ricetta sicuramente per la salute mentale prima E quella del proprio portafoglio dopo Andiamo a vedere ancora altri indici che in particolare ci interessano Quindi abbiamo il Russell Che anche qua si è comportato molto molto bene 171 punti di supporto funzionano ancora molto bene Li avevamo tracciati insieme Avevamo visto infatti che durante Già alla fine dell'anno Erano stati Erano stati Erano stati Erano stati Erano stati Il mercato era ripartito E l'erano stati Esattamente Anche Un anno fa Ora Che cosa è cambiato rispetto a un anno fa Rispetto agli ultimi mesi Se veramente qualcosa è cambiato Allora per quanto mi riguarda Ci sono stati dei cambi Molto importanti Siamo ancora In attesa di Due caratteristiche fondamentali Del mercato Di quello che è un mercato rialzista Ovvero L'indicazione da parte Del nostro indicatore principale Che è lo smart exit Quindi questo oscillatore Che vediamo qua sotto Che diventa verde e rosso In base Ai mercati rialzisti e ribassisti Vedete che era diventato verde A marzo Fra la fine di marzo E la prima settimana di aprile Del 2020 Dopo il crollo del covid E da lì era rimasto verde Praticamente Fino a questo momento Evitandoci Tutto quello che è stato Il crollo successivo Ed evitando anche Di rimanere ingabbiati Nella speranza Di capire Che cosa stesse succedendo In un mercato Come quello attuale Quindi noi non abbiamo Mai la necessità Di chiederci Se siamo in un mercato Rialzista o meno Perché abbiamo Gli indicatori Che ci permettono Di prendere delle decisioni Quindi questo è il primo indicatore Che vedete Sta quasi andando Verso lo zero E quindi potrebbe essere Che già questa settimana Chiaramente in base a quello Che succederà nei mercati Potrebbe darci Una prima indicazione Di Un mercato Nuovo rialzista La seconda indicazione Invece è quella Che riguarda Più che altro I nostri scan Perché All'interno Dei nostri scan Raptor Che sono Diciamo Il La punta di diamante Di quello Che noi facciamo Sono ancora Abbastanza vuoti Stanno iniziando A riempirsi Ci sono tante opportunità Che potenzialmente Si stanno formando Vorremmo vedere Ancora Un po' più di partecipazione E un po' di Conferme Da questi scan Ma C'è ancora qualcosa Di importante Che sta succedendo Perché Abbiamo avuto La chiusura Mensile Più alta Degli ultimi 12 mesi E questo Andando a vederlo Perché poi dobbiamo Contestualizzare Questo dato Potrebbe voler Dire tutto Potrebbe voler dire Niente Proprio In maniera così Netta Dobbiamo andare a vedere Quello che è successo In passato E che cosa significa Questo dato Allora Sono andato a guardare Quante volte È successo Che dopo un periodo Dove il mercato Non chiudeva Almeno Sui massimi Da 12 mesi Dopo un ritracciamento E quello che abbiamo visto È stato Veramente molto Interessante Molto importante E anche Rivelatorio Da Da diversi punti di vista Nel senso Che quello che abbiamo visto È che ogni volta È successo 7 volte Compresa quella attuale Quindi nel passato Nel 1980 Oggi Negli ultimi 40 anni È successo 6 volte Quindi è qualcosa Che non succede Tutti i giorni E questo Ci dà Comunque Un ulteriore O maggiore peso Rispetto a un dato Che Arriva Diciamo Un giorno sì Un giorno no Che chiaramente È meno rilevante No? Chiaramente Se fosse successo Soltanto una volta Sarebbe stato Un dato Poco rilevante Però Visto che comunque In 40 anni È successo 6 volte Vediamo che anche L'arco temporale Nel quale succede È abbastanza Come dire Lineare E questo è uno dei dati Più interessanti Che abbiamo trovato Abbiamo visto Che cosa Che Le 6 volte In cui questa Determinata caratteristica È avvenuta Il 100% Delle volte Il mercato Non ha mai avuto Un ulteriore Gamba ribassista Quindi vuol dire Che cosa Nel pratico Che da quel momento In avanti Il mercato È sempre salito Di quanto tempo È salito In termini percentuali È Di tempo È molto interessante E ho guardato Due dati Abbiamo guardato Due dati La prima È una correzione Del 10% Quindi Da quanto È salito Il mercato Da lì Fino Alla successiva Correzione Del 10% Sapete Che nei mercati Si parla di Correzione Quando il mercato Raggiunge Il 10% Fra il 10 E il 20% È di crollo Di mercato E quindi Di mercato Ribassista Quando supera Il 20% E questo è stato Molto interessante Quindi tutte le volte Che il mercato Ha raggiunto Il 10% Abbiamo visto Che dopo Questa indicazione Il mercato È salito Per 18 mesi Di fila Senza incorrere Mai in una correzione Superiore Al 18% Con un rialzo Medio Dall'inavanti Del 42% Che cosa vuol dire? Vuol dire che Statisticamente E può sempre Eserci L'eccezione Che conferma La regola Quindi Attenti ai dati Attenti ai bias Il mercato È sempre salito Per almeno 18 mesi E almeno Del 42% Vuol dire che Statisticamente Dal punto di vista Di probabilità Nei prossimi 18 mesi Il mercato Può salire Del 18% Chiaramente Se il mercato Sale del Scusate Del 42% Nei prossimi 18 mesi Chiaramente Se il mercato Sale del 42% Nei prossimi 18 mesi Il potenziale Di duplicare O triplicare Il proprio capitale In questi 18 mesi È veramente Molto alto Il secondo punto Che abbiamo guardato È Escludere I ritracciamenti Del 10% E considerare Solo quelli Che hanno raggiunto Il 20% Ma non oltre Quindi Prima del mercato Ribassista Successivo E anche qua È stato fantastico Perché abbiamo visto Che abbiamo avuto Risalite medie Per 85 mesi E una risalita Del 200% E chiaramente Questo ci mette In condizione Praticamente Di sapere Che probabilmente Abbiamo davanti a noi 18 mesi 24 mesi Dove non vedremmo Un ritracciamento Un ritracciamento Del 10% E questo è fantastico Perché ci permette Chiaramente Di cavalcare Il rialzo In maniera Veramente Molto Molto Forte E addirittura Abbiamo Che cosa 6, 7, 8 anni Prima di vedere Addirittura Un ritracciamento Del 20% Il ritracciamento Del 20% Per capirci Parliamo di ritracciamenti Come quelli Che abbiamo visto Nel 2020 Come quelli Che abbiamo visto Anche Un po' Più Di lungo periodo Vedete qua Eravamo arrivati A 19,26% Fra il 2015 E il 2016 2018 2019 Quindi Negli ultimi anni In realtà La frequenza È Tra virgolette Aumentata Ogni 3, 4 anni Ma comunque All'interno Di quel 20% E lì ci sono Delle opportunità Veramente Molto Molto Interessanti Credo che Questo sia Assolutamente Importante E fondamentale Come dato Perché ci dice Che Chi è pronto In questo momento E siamo qui ragazzi Non c'è più tempo Non c'è tempo Di aspettare Non c'è tempo Di aspettare Il prossimo mercato Rialzista Siamo dentro Siamo ancora All'interno Di questo Mercato secolare Rialzista Abbiamo potenzialmente Davanti a noi 10, 12 anni Di risalite Molto Molto Forti A prescindere Da quelle piccole Oscillazioni Che saranno Davanti a noi E lì ci saranno Le maggiori opportunità La scelta È sempre La stessa Decidere Di avere Risultati Nella media O addirittura Inferiori Alla media Perché Chi decide Di avere risultati Nella media Solitamente Non è qua dentro Non sta ascoltando noi Ha già deciso Di diversificare Di metterli sui soldi In fondi indicizzati E prendersi L'8% L'altra scelta È quella di Tentare È di battere Il mercato Ma fare Molto peggio Oppure Di prendere La strada Della verità La strada Di ciò Che funziona Nei mercati La strada Dei dati La strada Delle probabilità La strada Delle anomalie Che si ripetono Costantemente Da oltre 100 anni Perché sono anomalie Legate A come Il cervello È cablato Il cervello Degli investitori E dei trader È cablato E che non ha niente A che fare Con i numeri Che conosciamo Sull'atto accademico Sui bilanci Sull'economia Non ha niente A che fare Con tutto questo Quindi Avete ovviamente La vostra libertà Di scegliere Ma saranno Veramente Degli anni Molto molto Interessanti Per chi Deciderà Di abbracciare Il cambiamento Di abbracciare Quello Che poi è un cambiamento In realtà Conservativo Perché non è il cambiamento Perché in realtà Stiamo parlando di qualcosa Che funziona Da oltre un secolo E che in realtà Se il mercato azionario Fosse esistito da prima Funzionerebbe così Da milioni di anni Perché semplicemente L'uomo Funziona in quella maniera Quindi quando parlo Di cambiamento Intendo un cambiamento Di opinioni Un cambiamento Di pensiero Un cambiamento Nel modo Di vedere Le cose Che ci vengono Spiegate In una determinata maniera Ma che non hanno Niente a che fare Con quello che è Il nostro interesse Da trader E investitori Ok Quindi credo che questo Sia un po' Il messaggio più importante Della giornata Cavalcare il prossimo rialzo Senza le strategie giuste Sarà come cavalcare Qualsiasi altro rialzo Momento laterale Dove non sapete Che cosa state facendo Perché lo state facendo Perché Mannaggia Non funziona Quello che secondo me Avrebbe dovuto funzionare Perché è logico Che debba essere così Quindi Come sapete ragazzi Fra 19 giorni Esatti Saremo A Milano Il 20 del 21 di maggio Dove spiegherò Esattamente Come andremo a cavalcare Come andrò Letteralmente a cavalcare Questo prossimo rialzo Sapendo già Quali saranno Le aspettative E saranno delle aspettative Veramente fantastiche Di quello che succederà Nel mio portafoglio Semplicemente perché Ho in mano Un sistema Che è stato testato Per 10 anni di fila In diversi momenti Di mercato Compreso il crollo attuale Quindi È un po' come un business model Che ha delle aspettative positive Semplicemente perché È testato Semplicemente perché Funziona Semplicemente perché C'è una formula Vincente Che Al di là Delle errori quotidiani Delle perdite Che si possono avere In termini di stop loss Eccetera Alla fine Dell'anno Alla fine del trimestre Alla fine del semestre Alla fine dei 5 anni È quello di avere Un capitale Che è moltiplicato Decine di volte Rispetto a quello Che può dare Una gestione Passiva Nei mercati Oppure anche solo La speranza Di mettere Il cipino Il soldino Sulla nuova innovazione Sul bitcoin Di turno Che per carità Non è che non si debba fare Sono assolutamente Convinto che In una ottica Di sapere anche Che cosa si sta facendo Non sia sbagliato Prendere delle piccole decisioni In quella direzione Ma So per certo E di questo Ne sono sicuro E Ne avrete la prova E ne avete già la prova Tanti di voi Che Quello non è un metodo Ripetibile Replicabile E neanche attendibile Dove Dal punto di vista Delle probabilità So Che andrà Così Passati Tre mesi Sei mesi Un anno Due Tre Quattro Cinque anni Ok Quello che sarà Quindi In quello che facciamo Non c'è bisogno di aspettare Cinque anni Per vedere i risultati Nei prossimi Tre mesi Se questa è la ripartenza Di questo mercato Nelle prossime settimane Già vedremo Dei risultati Ragazzi Che faranno parlare Veramente Ancora una volta Di noi Per tanto tanto tempo Quindi Mi raccomando Buon studio Buon trading Se ancora non hai deciso Di venire a Milano Valuta di farlo Di darti Una possibilità Per vedere Effettivamente Che cosa c'è Dietro Lo schermo Di quello che facciamo Quotidianamente Ok Buona gestione Del rischio A tutti E ci vediamo domani Per il prossimo Trend Positioning Daily Che cosa c'è